buongiorno cari amici di due passi nel mistero oggi ci troviamo sui monti lessini in provincia di verona a sant'anna d'alfaedo stiamo per andare a vedere un manufatto davvero particolare ma prima ci fermiamo questo pannello per renderci conto un po dell'habitat prima dell'ultima glaciazione all'uomo erectus successe l'uomo di neanderthal che anche qui vicino al ponte di veia la nostra destinazione si era insediato per esempio nella grotta dell'orso e nei pendichi di gradano verso il ponte sono state trovate delle testimonianze come selci scheggiate rinvenute nelle argille quasi a contatto con la roccia in seguito circa 40.000 anni fa venne sostituito dall'uomo sapiens sapiens cioè l'uomo come lo conosciamo oggi e al ponte di veia troveremo cioè sono state trovate più che altro nella grotta c delle rame ritoccate e strumenti finiti e nella grotta e manufatti in osso cioè tra 5.000 e 300 anni fa e 3.000 anni fa sono documentate resti di sbozzature e scheggiatura di arnioni selciferi un deposito che in alcune aree raggiunge anche i 60 i 60 centimetri è stata ricostruita questa abitazione perché era così importante questo posto perché era ricco di materiale da estrazione soprattutto selce e ossidiana la lessinia insieme al promontorio del gargano che si trova in puglia era tra le zone più ricche di selce e a partire dal quarto millennio avanti cristo fornì una grande quantità per fare lame e manufatti a queste comunità di allevatori agricoltori anche uczi l'uomo del similaun è stato trovato con delle selci di provenienza proprio lessinica da qui e che adesso andremo a vedere in tutta la sua magnificenza è stato un ampio deposito di selce affiorante proprio una miniera a cielo aperto dove sotto la coltre praticativa permane imposto un esteso spessore di scarti di lavorazione poi da qui naturalmente i prodotti venivano esportati oltre che nelle zone della padania e del trentino alto adige asce picconi scalpelli coltelli punte raschiatoi denticolati andavano anche sicuramente in altri posti guardate un paesaggio spettacolare e la vediamo anche l'ingresso a varie grotte perché come abbiamo appena finito di dire questo è stato un insediamento dell'uomo preistorico che qui ha trovato un abitato ideale protetto naturalmente e poi soprattutto ricco di materiale che gli serviva per costruire armi e altri manufatti guardate che manufatto spettacolare anzi più che manufatto dobbiamo dire un 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 reperto che la natura ci ha saputo regalare si tratta di un ponte di pietra derivante probabilmente dal crollo di parte della roccia che prende il nome di ponte di veia credetemi si tratta veramente di un posto incantevole un miracolo della natura che se non stessimo vedendo con i nostri occhi stenteremo a considerare vero è magnifico adesso scenderemo fino a raggiungere le due grotte situate ai lati che sono servite all'uomo preistorico il ponte di veia è quanto rimane di un'enorme cavità la cui formazione è dovuta a una serie di coincidenze un filone vulcanico attraversava a valle gli strati rocciosi ed ostruiva lo scorrere delle acque l'inclinazione degli strati ammonitici verso monte favoriva la formazione di una dolina la progressiva erosione del manto poco permeabile del biancone che copriva gli strati sottostanti permetteva l'infiltrazione delle acque lungo le fratture della roccia questi sono tra i fattori principali che hanno dato l'avvio 38 milioni di anni fa al fenomeno carsico della grande caverna e delle sue diramazioni sino a provocare il parziale crollo della volta i pezzi di questo crollo troviamo lì ai piedi del ponte questo ponte è stato talmente importante che come vediamo anche da questa immagine fu ritratto da numerosi artisti fra cui forse il più famoso è stato il mantegna che lo dipinse nella camera degli sposi di palazzo ducale a mantova e allora e oggi come allora ci sono delle costruzioni al di sopra grazie 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 ecco qui ci troviamo in una delle grotte che si trovano ai piedi del ponte e non si vedrà nulla in quanto c'è veramente buio però abituando lo sguardo vediamo che qui scorre un corso d'acqua che poi si butta nel torrentello e in fondo in fondo c'è una grata una grata una grata che ostruisce il l'ingresso probabilmente perché diventerebbe pericoloso grazie grazie guardate qui qualcuno ha scolpito questo crocifisso latti achille è stato completamente nella roccia nella roccia monitica rossa ecco la riusciamo a vedere l'ingresso delle cavità che si trovavano proprio in questo banco roccioso e poi qui davanti a noi si staglia meraviglioso questo ponte naturale uno tra i più maestosi non solo d'italia ma d'europa e tra l'altro bisogna dire anche un'altra cosa che qui una volta milioni di anni fa c'era il mare ovviamente come ormai tutti sappiamo come la geologia ci dice e in questo mare c'erano anche degli squali perché dico questo perché un fossile perfettamente conservato e unico al mondo di un particolare tipo di squalo è stato trovato proprio in queste zone ed è conservato nel museo paleontologico guardate il posto è veramente meraviglioso e dobbiamo immaginarlo ecco questi sono i resti che sono caduti millenni nel corso dei millenni e dobbiamo immaginare questo posto come un enorme caverna della quale resta questo meraviglioso ponte naturale adesso queste cavità queste caverne come abbiamo modo di vedere sono molto buie e ovviamente e addentrate lì però possiamo vedere anche dei graffiti e delle scritte che sono state lasciate nel corso del tempo per esempio c'è scritto ludovicus salvius e poi ci sarebbe anche forse un altro nome sotto la data del 1888 parrebbe poi c'è un bel tris guardate che bella scoperta che abbiamo fatto insieme ad altre scritte nomi croci e probabilmente qui una volta il posto era accessibile a chiunque adesso ci sono dei cancelli comunque quella che abbiamo appena incontrato è la cosiddetta grotta dell'orso che conserva un equilibrio costante tra temperatura e umidità ospita tuttora benché rarefatta una colonia di pipistrelli nella grotta dell'acqua invece grazie alla sorgiva che vi sgorga prosperano diafani crostacei molluschi e anfibi e anche varie specie di ragni di coleotteri di cavallette gli scavi archeologici che sono stati fatti nel secondo dopoguerra nella grotta dell'orso in altri siti rivelano la forte consistenza della grande fauna che un tempo assieme agli uomini animava l'ambito di ponte di veglia rinoceronti di merc elefanti antichi ipopotami daini caprioli cinghiali qui siamo arrivati in un punto dove l'acqua del rio fa una sorta di cascatella e scende fino a valle la vegetazione che pure non è foltissima conferisce comunque un aspetto molto pittoresco sempre con il ponte a fare da sfondo eeeh eeeh e poi vediamo che dice il ponte e qui la cascata e immediatamente di lato alla cascata ancora grotta ancora caverna è instagram iscriviti per curare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.